ecco qui siamo in diretta facebook forse anche youtube oggi buongiorno a tutti e iniziamo iniziamo oggi con condivido lo schermo allora ecco qui allora oggi parliamo parliamo dei motivi per investire nel real estate abbiamo trovato 14 più 1 finale e un po' poi anche mi chiedono spesso per quale motivo non investo in italia diciamo ho tirato fuori un po quelli che sono i punti principali per cui mi piace concentrarmi nel mercato degli stati uniti allora perché perché investire nel real estate diciamo in modo generale i punti quali sono in questa fase qui di mercato c'è un po di incertezza che nasce da quest'ultimo anno e mezzo o due insomma in cui abbiamo vissuto momenti particolari punto incertezza forse il termine che descrive un po meglio questo periodo il mondo del lavoro e del business che è in forte evoluzione e quindi crea la necessità di generare un reddito continuativo e automatico sempre sempre di più andremo a perdere alcuni tipi di lavoro magari si saranno sostituiti da altri ma in linea di massima questo andamento verso diciamo la digitalizzazione l'automazione è abbastanza evidente e il mercato del real estate prevede ancora una forte crescita nei prossimi tre anni quello degli stati uniti non entriamo proprio nel merito di questo ma noi ogni tre mesi ogni trimestre facciamo un'analisi di mercato e coinvolgiamo anche i nostri investitori in questo quindi siamo molto attenti a quello che succede ai parametri macroeconomici e anche locali di dove operiamo quindi diciamo la previsione è che ci saranno ancora degli anni di forte crescita anche un po spinti da un'inflazione che si prevede nel mercato premita in forte espansione e stanno per partire anche molti progetti di varia natura chi è remita per chi per chi non lo sa insomma questo è un video un po aperto a tutti quindi qualcuno magari non ci conosce remita è una delle più importanti società che operano sul mercato immobiliare negli stati uniti è nata nel 2011 e proprio a seguito della crisi dei muti subprime che abbiamo un po imparato a conoscere un periodo in cui immobili costavano molto poco proprio a seguito di quella crisi e lì siamo partiti adesso abbiamo più di dieci anni abbiamo in questi dieci anni acquistato gestito rivenduto più di 300 immobili per un valore che va ben oltre 50 milioni di dollari quali sono appunto questi motivi per investire nel real estate mantenimento del valore medio e lungo termine periodo in periodi di inflazione come quelli che si prevedono appunto nei prossimi mesi e anni è molto importante riuscire a mantenere il valore del proprio capitale e questo è uno degli elementi che caratterizza e caratterizza gli investimenti immobiliari in genere c'è un apprezzamento naturale che tra l'altro qui ho messo una piccola un piccolo schema che fa vedere l'andamento dal 1990 al 2018 la linea rossa è l'andamento dei valori medi e la linea blu è la media appunto che si è ottenuta negli ultimi dieci anni la media di apprezzamento naturale è stata il 5,3 per cento l'anno addirittura l'ultimo anno stiamo intorno a un 9,8 per cento quindi dei valori che sono notevoli poi chiaro nei periodi di inflazione tendono ad essere ancora più alti è fondamentale poi avere in mano asset piuttosto che liquidità in periodi del genere creazione di valore quindi quella che viene chiamata la forced appreciation quindi l'apprezzamento forzato e qui ho preso una foto di uno degli immobili che abbiamo gestito noi sulla sinistra c'è la foto della cucina come l'abbiamo trovata questa è la foto della cucina della zona giorno poi a seguito della ristrutturazione quindi come vedete si può creare molto valore nell'ambito degli immobili questo è un esempio tax benefits quindi i vantaggi fiscali sono notevoli specialmente negli Stati Uniti 1031 exchange è uno di quelli è un sistema per deferire il pagamento delle tasse anche all'infinito e quindi interessante come aspetto che si può utilizzare negli Stati Uniti e non entro poi troppo nel merito magari faremo dirette specifiche poi sulla parte del fiscale che è interessante tra l'altro il nostro CFO dell'azienda è molto preparato su questo aspetto magari le condura a lui spese di viaggi e qualsiasi spesa correlabili all'attività di investimento quindi potete usare molta fantasia negli Stati Uniti su questo costi di riparazione e manutenzione e tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dell'immobile bollette relative all'immobile interessi del mutuo deduzione delle property tax quindi delle tasse di proprietà e la depreciation che è un altro elemento molto interessante specialmente per chi deliene immobili in affitto praticamente va quasi ad annullare il pagamento delle tasse quindi l'incidenza delle tasse poi sul rendimento effettivo molto netto anche dalle tasse. I cicli di mercato sono molto prevedibili e appunto noi facciamo un'analisi molto approfondita trimestrale per andare poi a fare delle stime di quello che può succedere nei mesi successivi questo permette di adattarsi e di scegliere le strategie più corrette a seconda del periodo della fase del ciclo questo è un esempio di un ciclo standard in cui c'è una fase di recupero dalla crisi precedente poi c'è una fase di espansione si arriva a un picco e poi una fase in cui l'offerta è superiore alla domanda e quindi si crea una situazione di iper supply e cominciano a riscendere i valori degli immobili a questo punto continuano a scendere, si crea la recessione eccetera queste fasi, quattro fasi del mercato è possibile entrare in qualsiasi di queste fasi ed essere produttivi ed operare a rischi bassi chiaramente bisogna sapere utilizzare le giuste strategie nel momento giusto il fatto che siano prevedibili è fondamentale per scegliere appunto con un certo anticipo quella che sarà la strategia di investimento price range, quindi quanto capitale mi serve per entrare su questa tipologia di investimenti qui ho preso una foto di Zillow che sarebbe una piattaforma dove ci sono tutti i dati relativi agli immobili insomma una piattaforma abbastanza accurata dove si trovano anche ecco in questo caso questi sono gli immobili in vendita come vedete qui questo è il West Virginia solo per dare un esempio di come esistono possibilità di entrata in mercato con cifre anche piccole che vedete 37.500 dollari questo immobile ma ce ne sono altre addirittura meno chiaramente dipende dalle condizioni questo per dire che non sempre bisogna immaginarsi capitali enormi per poter accedere a questa tipologia di investimenti quindi può richiedere capitali importanti ma a volte anche no, dipende dal tipo di strategia partecipazioni, uno dei modi per entrare su investimenti anche magari più grandi, più costosi è quella di partecipare a quote in progetti cosa che normalmente noi permettiamo crowdfunding immobiliare è un altro dei mezzi che permette di accedere a questo tipo di investimenti con cifre anche molto piccole poi correlato anche a questo c'è il discorso di poter operare a leva quindi è facile ed economico accedere a finanziamenti proprio perché c'è un asset tangibile e quindi si può entrare in leva quindi con capitali ridotti e con rendimenti chiaramente a leva che se uno gestisce bene il rischio possono essere molto interessanti il rifinanziamento è uno dei mezzi che viene utilizzato spesso e qui ho voluto fare un esempio molto rapido per spiegare cosa si intende buy, rehab, rent, refinance che vuol dire compro, ristrutturo, affitto e rifinanzio poi l'immobile qua ho messo proprio un esempio di un immobile che abbiamo comprato noi così in questa modalità, con questa strategia diciamo abbiamo acquistato l'immobile a 100.000 dollari ristrutturato con 50.000 dollari il valore ERV sta per Rafter, per Vale quindi il valore dopo la riparazione era di 200.000 dollari quando siamo andati a rifinanziare perdendo un 75% di rifinanziamento su questo valore ci hanno dato 150.000 dollari che è proprio la somma dei costi la somma dell'investimento quindi recuperato con zero esposizione del capitale a questo punto uno si riduce il rischio a zero praticamente perché non c'è più esposizione del capitale e due sei praticamente a ritorno infinito in questo caso praticamente l'affitto 1700 dollari con una rata al 6% di interesse il finanziamento quindi veniva fuori poco meno di 900 dollari al netto delle altre spese di gestione dell'immobile c'era un cash flow di questo immobile qui superiore a 300 dollari al mese tra l'altro un cash flow che tende ad aumentare poi con l'aumento degli affitti che poi in questo periodo è molto repentino paghi l'investimento con i soldi di qualcun altro e l'affitto paga il mutuo questo a prescindere dall'utilizzare una strategia come quella che abbiamo appena visto del BRRR ma in generale anche con percentuali rispetto all'investimento più basse si è a leva e pian piano poi l'affitto va ad abbattere il mutuo quindi andiamo ad acquisire anche i valori inequiti dell'immobile l'asset è tangibile quindi il livello di rischio è molto più basso rispetto ad altre forme redditizie che magari hanno lo stesso tipo di ritorni ma rischi molto più elevati un altro livello di protezione dell'investimento e quindi di abbattimento del rischio è che è facile da assicurare rispetto ad altri investimenti sono molte le società assicurative che competono tra di loro e questo permette anche di avere dei costi di assicurazione bassi e di assicurare gli immobili per qualsiasi tipo di danno protezione sia dai danni alla proprietà sia protezione da azioni legali quindi a responsabilità civile e sui danni alla proprietà ci sono tantissime tipologie di protezione visto che noi operiamo in Florida spesso mi dicono ma come la metti con gli uragani eccetera è assicurabile l'immobile anche per danni da uragano o da allagamento e quindi è facile assicurare gli immobili su qualsiasi tipo di danno e questo appunto va ad abbattere tantissimo il rischio di investimento è facilmente redditabile ed è proprio uno strumento che viene utilizzato per creare quella che viene chiamata la legacy wealth sarebbe il benessere finanziario ereditabile quello che va da generazione all'altra e qua ho fatto un piccolo cenno a una ricerca che è stata fatta su delle famiglie più ricche a Firenze nel 1427 erano le famiglie che avevano i beni immobili e sono le stesse che tuttora sono le più ricche a Firenze quindi per dire che è un... è proprio... vai a creare proprio quella che viene chiamata legacy wealth questo benessere ereditabile che rimane la diversificazione su più settori noi di Remita operiamo sulle single family, multi family apartment complex e short term però esistono anche altri tipi di settori nell'ambito real estate come quello degli hotel quelli degli real estate commerciali dei centri commerciali dei building di uffici del real estate industriale e terra agricola ma anche altri tipologi di real estate facili da liquidare qui parliamo di residenziale questo grafico fa vedere proprio l'andamento delle single family quindi delle case singole dei giorni di mercato medi delle case singole qui abbiamo preso San Francisco e come vedete oscilla dai 60 in realtà dai 30 ai 90 giorni sul mercato medi ad immobile vedete questo grafico va dal 2007 al 2017 e anche il periodo quello della crisi dove vedete i giorni tendono a salire ma arrivano picchi di 90 giorni sul mercato quindi un mercato molto liquido addirittura oggi questo si ferma al 2017 di grafico oggi a San Francisco in questo stesso mercato il tempo medio è 16 giorni sul mercato quindi decisamente basso poi ecco appunto una delle domande che mi fanno spesso è ma perché non investi in Italia non che non ci abbia provato l'ho anche fatto però poi ecco quando metto a paragone la possibilità di investire negli Stati Uniti rispetto all'Italia ci sono una serie di elementi che vengono a favore degli Stati Uniti uno di questi è la burocrazia semplificata il complesso normativo è snello chiaro ed efficiente su questo posso fare degli esempi a volte è capitato qualche costruttore che mi ha chiesto ma quanto ci mettete ad avere i permessi per fare una nuova costruzione o magari per estendere la superficie di un immobile già esistente ecco lì negli Stati Uniti c'è una risposta ma che è creato un po' di stupore chi è abituato magari in Italia a fare costruzioni nuove e lì si parla di una settimana massimo due nel caso in cui vengono richieste delle modifiche nei disegni che vengono presentati quindi diciamo è una modalità molto rapida di svolgere richieste di ottenere permessi e una cosa molto interessante di cui si può parlare anche rispetto agli Stati Uniti è il presupposto di buona fede con la quale si parte sempre nel caso di sanzioni per esempio per fare un esempio su questo succede che negli Stati Uniti nel caso in cui non viene fatta una manutenzione corretta all'immobile in quelle parti che possono disturbare ciò che è comune ad esempio il taglio dell'erba in una villetta che poi dà fastidio diciamo al pubblico in questo caso avvengono delle violation sono praticamente delle comunicazioni delle richieste da parte del comune di tagliare l'erba per esempio ma può essere anche qualsiasi altra cosa magari cose un po' più complicate come quella della manutenzione esterna dell'immobile e queste violation ti danno un termine entro il quale dovresti diciamo completare la richiesta da parte del comune quindi per esempio il taglio dell'erba nel caso in cui non dovesse essere fatto dentro il termine incominciano a scattare delle sanzioni che poi vengono diciamo messe sull'immobile come ipoteca sotto forma di ipoteca e nel momento in cui si dovesse andare a discutere una problematica del genere la maggior parte dei casi si parte dal presupposto che chi avrebbe dovuto fare la riparazione o la manutenzione non l'ha effettuata in buona fede e quindi queste multe nella maggior parte dei casi vengono annullate del tutto o ridotte di tantissimo e stessa cosa avviene per noi sembra quasi assurdo ma con l'agenzia delle entrate statunitense il momento in cui dovesse esserci una sanzione per qualsiasi motivo viene sempre almeno in prima battuta abbattuta completamente la sanzione partendo dal presupposto che ci sia buona fede chiaro che poi è reiterata nel tempo la stessa del stesso tipo di violazione poi chiaramente poi a quel punto viene a chiedere il presupposto di buona fede però è un elemento assolutamente fondamentale un altro esempio che mi viene in mente è la velocità con la quale che tra l'altro è stato uno degli elementi che ci ha spinto poi a trasferirci negli Stati Uniti come attività quello degli sfratti degli inquilini normalmente noi in un contratto di affitto diamo 5 giorni di tolleranza per il pagamento dell'affitto che normalmente è il primo del mese il 5 del mese nel caso in cui non dovesse essere stato effettuato il pagamento viene consegnato il 3 days notice che sarebbe una notifica una richiesta di pagamento dell'affitto entro i successivi 3 giorni nel momento in cui non dovesse avvenire in quei 3 giorni può scattare eventualmente la procedura di sfratto chiamata eviction e dura 30 giorni dopo dei quali si torna in possesso dell'immobile quindi diciamo tutto un quadro che agevola proprio l'investitore la propensione all'affitto della popolazione negli Stati Uniti questo ci permette di ottenere un'occupazione molto elevata cioè il motivo per cui negli Stati Uniti si utilizza molto l'affitto è un po' culturale un po' per esigenze lavorative sono molto abituali spostarsi da uno Stato all'altro e vivere periodi brevi molto meno statici di quanto siamo abituati noi magari in Italia o in Europa e questo ci permette di avere un'occupazione molto elevata ad esempio Remida nella gestione delle unità che gestisce adesso circa 170 unità ha un'occupazione e anche una collection molto elevata che supera il 99% e abbiamo liste di attesa poi di persone che vogliono affittare immobili questo oltretutto fa sì che l'andamento degli affitti sia costante e anche a prova di crisi in tutte le ultime crisi che ci sono state a livello immobiliare quella del 2008 quella del fine anni 80 inizio 90 quella tra il 70 e l'80 tutte queste crisi nonostante la ridiminuzione dei valori dell'immobile gli immobili in realtà gli affitti sono sempre stati in costante crescita quindi questo permette anche di tenere botta magari a crisi se gli investimenti vengono strutturati in modo intelligente trade off prezzo di acquisto rendimento rendimento anno il rapporto tra il rendimento e l'acquisto dell'immobile fa sì che otteniamo un rendimento annuolozo superiore alla doppia cifra quasi sempre nel 2011 chiaramente dipende dalle zone dove si acquista e varia assolutamente in base alla fase di mercato quando abbiamo acquistato noi nel 2011 immobili che tra acquisto e ristrutturazione avevamo pagato 40.000 dollari investiti 40.000 dollari pagavano 800 dollari di affitto per dire quanto fosse estremo questo rapporto e oggi gli apporti sono un po' cambiati perché siamo in una fase diversa di mercato tuttavia si riescono a ottenere ancora tranquillamente rendimenti lordi in doppia cifra la tassazione è agevolata abbiamo visto un po' prima una serie di agevolazioni che ci sono ma le aliquote fiscali comunque partono sono molto basse rispetto a come siamo abituati noi in Italia e la possibilità di ottenere molteplici deduzioni nel caso in cui si struttura bene un investimento quindi attraverso le forme corrette la forma societaria corretta e le deduzioni che si possono ottenere veramente sono incredibili al punto che a volte insomma le tasse che si vanno a pagare vanno veramente a incidere molto poco sul rendimento il rendimento netto in Italia immobiliari frequenti è un mercato molto più liquido come abbiamo visto prima i giorni medi sul mercato sono pochi sono bassi quindi veramente molto liquido come mercato questo fa sì che ci sia un flusso di opportunità di investimento costante e quindi si possa trovare continuamente a prescindere dalle fasi di mercato anche in una fase di crescita di mercato come quella attuale si riescono a trovare molti affari e si può essere profittevoli in ogni fase di mercato ci sono le strategie giuste per ogni fase l'ultimo motivo per tornare diciamo a parlare di quelli che sono emotivi in generale per il real estate il real estate permette di creare quello che viene chiamato passive income for life entrate passive per la vita 24 ore su 24 7 giorni su 7 qui una citazione di Warren Buffett che dice se non trovi il modo di fare i soldi mentre dormi lavorerai per soldi finché vivrai e questo è un po' quello che facciamo noi di Remida qui ho messo l'immagine che usiamo spesso per rappresentare il nostro lavoro che è quello di cercare il potenziale qui c'è ad esempio di una pietra grezza e di un diamante e quello che fa chi lavora ai diamanti è proprio quello di depurare la pietra grezza per tirar fuori qualcosa che è di estremo valore con un diamante ed è un po' quello che andiamo a fare noi quindi cercare questo a prescindere dalle strategie ci sono diverse strategie che variano appunto rispetto alla fase di mercato rispetto agli obiettivi della persona obiettivi di investimento noi andiamo comunque ad avere sempre un approccio di questo tipo cioè andare a trovare qualcosa dove il potenziale è inespresso per poterlo tirar fuori questo ci permette di abbattere i rischi perché se acquisti bene vinci sempre e quindi abbattiamo i rischi e aumentiamo di tanto il rendimento il rendimento che riusciamo ad ottenere per i nostri clienti e questo è il nostro obiettivo con Remita e questo è quello che facciamo per i nostri investitori proprio al fine di voler determinare quale possa essere la strategia migliore a seconda degli obiettivi noi offriamo una consulenza gratuita di 30 minuti chiunque la volesse prenotare può scriverci a info www.remitare.com dedichiamo 30 minuti nel nostro tempo per andare a individuare appunto quali possono essere gli obiettivi di ciascuno e andare a definire quali sono le strategie che possano accompagnare a seconda della situazione di mercato miglior investimento a seconda appunto degli obiettivi di investimento ecco sono tornato adesso io e vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pranzo per chi ancora non ha pranzato o una buona giornata a tutti ciao